un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele eccoci qua al numero 85 lo so come ho detto nel video precedente oggi che è mercoledì sarebbe dovuto uscire l'86 ma a me non è neanche arrivato l'85 questo mi è arrivato con l'unboxing che avete visto prima nella scatola meno male se no non potevo fare altrimenti non avrei potuto fare neanche questo montaggio dell'85 allora andiamo subito a vedere i contenuti prima però di guardare quello che ci viene fornito nel numero 85 vi dico cosa vi serve per montare appunto questo numero vi servono uno e due pezzi il destro e il sinistro ok quelli che abbiamo già montato nei numeri precedenti vi serve questo la parte della schiena ma è bello questo pezzo tutto è bello mi piace tutto non importa le modifiche ragazzi le facciamo a noi che ce ne importa facciamo tutto ragazzi poi oltre ovviamente al cacciavite e voi direte Michele ma grazie che ce l'hai detto lo sappiamo sì però vi consiglia Michele anche quello con la punta più sottile perché abbiamo una serie di viti le TP che hanno la testa con la croce più piccola forse ce l'ha fatta anche con questo però rischiate di rovinarlo poi vedete voi una pinza come quella che avete già visto in qualche video non è obbligatoria questa potete farlo con le dita ma io uso questa perché ce l'ho poi vedrete cosa servirà e poi se proprio volete anche questo per presentare vedere poi come cadono giù i pezzi perché sicuramente ci sarà qualcosa vi ricordate che guardate vi ricordate lo spazio guardate qua che c'è qui passa il cacciavite e qui no per essere uguale a questo o avvicino questo così o apro questo così vedete quindi alla fine quella prova di mettere la schiena qua dietro mi servirà per questo adesso andiamo avanti mettiamo via uno mettiamo via due ok e prendiamo quello che ci interessa andiamo subito alla pagina la pagina è la numero 4 e ci dice ok in questa uscita continuerai a lavorare sul sistema dei freni aerodinamici del tuo modello assemblando gli allettoni e le loro piastre di arresto andiamo subito a vedere il contenuto ecco qui voilà guardiamo i pezzi se hanno difetto o no un po' la vernice una riga qua ma si ragazzi dai questi invece lo troverete anche voi ve lo dico subito eh quindi non andate cioè è inoltre che lo fate sostituire permettetemi di dirvelo perché questo purtroppo mamma mia come lavorano male ragazzi guardate che roba dove c'era il punto di giunzione delle plastiche non l'hanno neanche seppiato cioè non lo hanno neanche seppiato voglio sperare che questo non si veda ma ho i miei dubbi comunque vedremo poi comunque andava fatto ragazzi andava seppiato va bene dai ve l'ho solo fatto vedere così dite ma caspita è solo il mio che fallato no ragazzi tutti due su due quindi va bene andiamo abbiamo l'alettone destro che è questo qui l'alettone sinistro eccolo qui poi abbiamo la piastra di arresto superiore a destra e in acciaio serigrafato acciaio vero acciaio e piastra di arresto superiore sinistra e poi abbiamo due serie di viti tutte e due per la plastica vedete scritta azzurra indica il colore che va nella plastica ovviamente anche spiegato benissimo nelle istruzioni e pista per plastica quindi abbiamo due serie di viti una ip eccola qui e l'altra tp quella di cui vi parlavo prima chi ha la testa più piccola vi conviene usare un cacciavite con la testa più piccola andiamo subito a vedere il primo passaggio ecco qui allora seguite sempre il disegno ragazzi delle istruzioni non vi sbagliate di sicuro vedete questo può sembrare chissà se riesco a farvelo vedere bene così ok questo può sembrare che sia questo ma state attenti perché se vi sbagliate piegate al contrario vedete che qui non c'è il tratteggio guardate qui invece il tratteggio è presente lo vedete 1 e 2 sono queste linee qua piccole e bianche che vedete sulle istruzioni quindi è ovvio che questo così può sembrare questo ma non è questo pezzo qui ma bensì è questo dove oltre ad avere la stessa chiaramente posizione abbiamo il tratteggio qui 1 e 2 e questo è l'85b non ci confondiamo ok come vanno piegate le alette vi ricordate qua dovete fare molta attenzione perché se sbagliate non avete un'altra possibilità poi per carità se a qualcuno è accaduto vi accorgerete che le rompete allora il tratteggio deve essere rivolto verso il vostro viso come vi dice anche le istruzioni e piegate le alette in su guardate vedete il tratteggio qui sto cercando di mettere a fuoco l'immagine cavolo ecco mamma mia allora guardate metto se non l'avete usate le mani e le dita io lo faccio perché ho più comodità così con la pinza piego in su una volta 90 gradi non basta ancora un po' ancora un po' ok e faccio la stessa cosa dall'altra parte ecco vedete il tratteggio è dove ho piegato qui non c'è il tratteggio è dove ho piegato ok ragazzi adesso faccio la stessa cosa con l'altra metto in pausa un attimo il video così guadagniamo un po' di tempo aspettate perché non so l'ho messo in pausa non vedo il contasecondi un attimo no non l'ho messo lo metto adesso ecco fatto ragazzi allora li abbiamo piegati tutti e due nella giusta maniera questo è l'85b che va montato dove avete la lettera r destro r qua sotto vedete c'è la r qui ok quindi recuperiamo il freno aerodinamico della spalla destra che abbiamo assemblato nell'uscito 83 eccolo qui e ci aggiungiamo questo ok questo qui che è l'alettone destro aspettate un attimo questo un attimo eh potrei mettere la pausa ma no facciamo tutti in diretta perché qua c'è qualcosa che non mi torna allora questo è qui e non va così ma va così ok però se questo è il destro sì perfetto ah ecco ecco un par di cionfoli scusate ragazzi eh scusate ragazzi eh allora se questo è il destro c'è un errore eh no adesso ve lo devo far vedere eh perché Michele sarà anche cotto però scusatemi io di inglese non so anche eh ma la L la L non è a sinistra e la R è la destra ma è solo un piccolo appunto che volevo fare io magari sto dicendo delle stupidaggini e non me ne vogliate fatevi una risata alla fine però vedete qua mi fa vedere alettone destro ecco perché mi sono fermato un attimo a guardare ma la lettera è L e se la L è left e sinistra se non ho sbagliato eh hanno sbagliato a scrivere il destro è da questo qua e il sinistro è da questo vabbè dai eh poco conta magari se ho sbagliato io ragazzi non ci fate caso è per quello che mi sono bloccato prima a guardare ok allora riprendiamo siamo a questo punto qui abbiamo preso il freno aerodinamico della spalla destra andiamo a metterci chiaramente lo stesso numero corrispondente R lettera R si mette a fuoco ce la facciamo vabbè qui c'è una R fate attenzione ed è questo qui ovviamente ok allora e ci dice ovviamente di inserire il pezzo che abbiamo appena piegato cioè questo il pezzo che abbiamo appena piegato è l'85 B vi ricordate il primo andiamo a metterlo guardate ma ragazzi ma io mi sto ubriacando ma cosa è successo qua e siccome si è soltanto questo pezzo per il destro e sono andato subito qua ero convinto che mi facesse vedere come incastrare il pezzo del destro invece questo è già al sinistro capite io mi sono trovato questo pezzo in mano che non ha niente a vedere con questo il pezzo che ho io è questo praticamente pensavo che questo era ancora il montaggio del destro quindi vi chiedo scusa vabbè dai ragazzi allora dai andiamo ad inserirlo qua dentro così lo facciamo possiamo entrare bene nel foro così non abbiamo difficoltà poi con la nostra vite rendetevi conto com'è storto meno male che lo possiamo adrizzare poi mamma mia guardate non vi spaventate comunque montiamo prima tutto allora prendiamo questo così e ci mettiamo la nostra bella vite tp io ragazzi ovviamente vi monto soltanto il destro poi monterò il sinistro a telefonino spento così recuperiamo il tempo perso che ho perso io prima allora inseriamo questa vite tp all'interno così ok mettiamo questo perfetto o no questo è grande quello più piccolo vedete la punta è più piccola accertatevi quando lo montate che prendete il foro dietro occhio eh perché non è così automatico se questo lo piegate non lo prendete il foro e allargate troppo la plastica rischiate di romperla quindi accertatevi che la vite entri nel buco suo nel suo foro qui ci siamo controlliamo beh combaccia molto bene almeno per adesso poi vedremo dopo voilà questo questo si muove allora vi do un consiglio poi io lo smonterò dopo aver fatto il video vedete che c'è aspettate vedete che c'è abbastanza spazio qua in mezzo tra una plastica tra questa che entra e queste due intorno ecco automaticamente la vite per quanto la stringiate arrivate in battute basta non tiene molto ferma questa letta allora per poterle dare un po' di forza a questa letta di resistenza piegatela un po' di più cioè fatela mi spiego guardate vedete io questa l'ho piegata così perché l'ho detto la faccio a 90 gradi invece no la piegate di più così lei essendo più piccola fa fatica a entrare e vi rimane più rigida nei movimenti vedete guardate chissà se mi sono riuscito a spiegare madonna mia che non si mette a fuoco questo telefonino mi esaurisco io madonna ecco vedete piegata ancora un po' ok così quando andrete a mettere questo all'interno sicuramente avete capito cosa intendevo dire ecco qua vedete già senza vite questo non si muove ok va bene allora andiamo a vedere come è venuto il primo pezzo questo va qui e va bene beh questo lo addrizziamo perché ovvio che non può stare così quindi lo addrizziamo lo alziamo per addrizzarlo e lo pieghiamo un po' senza esagerare finché vedete che entra dentro comunque stavo pensando a me non è che piace tanto così sto pezzo e madoncina ragazzi troppo aperto qui qua combacia bene almeno quello guardate anche se c'è questo errore che avrebbe combaciato ancora meglio se non ci fosse stato questo errore qua della che vi ho fatto vedere prima questo della plastica che esce e allora 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 vediamo dai adesso vedo se mi invento qualcosa metto un attimo la pausa dai ragazzi adesso andiamo avanti così poi piuttosto faccio un video in aggiunta breve solo per farvi vedere se ho trovato il modo di levare tutto questo gioco anche se ripeto non ci dobbiamo giocare non è indispensabile farlo io lo faccio perché è il mio modello ragazzi e ognuno del suo ovviamente come voi del vostro decide se fare o meno un intervento però adesso per addrizzarlo vedete mettere le linee praticamente questo dovrebbe andare così io tiro giù questo alettone così posso fare questo movimento e vediamo se mi si rompe in diretta non ve lo faccio fare a voi ecco vedete ancora un pochettino e ci siamo non dovete aver fretta ecco guardate adesso vedete ancora appena appena ok guardate la stessa distanza che ho qua la ho di qua adesso adesso si che va bene vedete lui entra bene dentro perfetto questo l'abbiamo finito adesso metto in pausa monto l'altro e vi faccio vedere prima di addrizzarlo come si presenta l'altro che poi era come avete visto prima che io lo adrizzassi guardate che bello comunque questo pezzo è veramente un bel pezzo peccato peccato per questa sbavatura se avessi il colore della tamia io la toglierei facilmente se lo trovo la tolgo perché fa veramente diciamo cioè ragazzi fa schifo fa schifo questo questa questa porcheria che hanno lasciato qua dai ma come si fa in un modello del genere cioè c'è proprio la plastica che sporge ed è quella che non vi permette di andare anche se è abbastanza perfetto diciamo tra virgolette non vi permette di andare perfettamente in battuta come dovrebbe vabbè dai ragazzi montiamo l'altro e metto in pausa tant'è la stessa cosa eccoci di nuovo qua ragazzi allora devo dire che il secondo che ho montato non mi ha dato quel problema cioè è andato perfettamente vedete è in linea questo qua mi ha dato un po' più problema però avete visto come si fa è molto semplice e una cosa ve l'ho già detta ma ve la ridico fate veramente molto attenzione quando mettete questa vite all'interno accertatevi che entri nel foro perché non entra così facilmente quindi voi avvitate e distanziate il pezzo e lo rovinate rovinate il filetto interno per capirci quel buco di plastica fate attenzione accertatevi che entri perfettamente bene all'interno allora abbiamo fatto questi due io mi sono portato avanti vi faccio vedere così il video viene ancora più breve meno male perché già sono lungo come non so cosa e mi sono passato con le viti ip queste mi sono fatto creato il filetto qui e adesso vado a svitare e la stessa cosa ho fatto da quest'altra parte questo vi aiuta molto ragazzi non mettete olio non mettete grasso perché qua è plastica lo sapete guai andiamo a questo punto a recuperare la parte posteriore del torace su cui abbiamo lavorato nell'uscita 82 andiamo a collocare il gruppo del freno aerodinamico della spalla destra nella sua posizione lavorando sul lato interno della parte posteriore del torace quindi questa parte posteriore del torace andiamo prima a presentarlo ok eccolo qui e così possiamo prima mettere uno poi l'altro non cambia niente è il primo che vi viene nelle mani ragazzi montate e andiamo a metterci la nostra vite ip guardate che vediate il foro sotto così è più facile anche per voi avvitare ecco qua appunto solo senza stringere faccio la stessa cosa dall'altra parte né più né meno quindi recupero una vite ip questo lo mettiamo così ah ragazzi comunque diciamocelo pure è vero che l'abbiamo pagata ma non è così facile fare un'armatura del genere e montarcela insomma ce n'è di pezzi qui è ecco qua quando che siete arrivati ad avvitare nel modo corretto quando questa parte di metallo qui è completamente in linea con la parte di plastica che abbiamo appena messo quindi qui andiamo ancora ad avvitare la vite ip perfetto adesso siamo a questa fase qui andiamo a vedere beh pensavo peggio nel senso che guardate per adesso la linea è perfetta io ho lo stesso spazio che ho qua ce l'ho di qua più o meno insomma sì è uguale a questo punto abbiamo fatto uno abbiamo fatto due ci dice prova ad aprirli e noi proviamo ad aprirli qua è molle non è un problema se è molle lo stringiamo un po' che problema c'è ecco qua voilà uno due vedete questa è quella che io non ho ancora smontato che vi ho detto prima ragazzi qua invece l'ho fatto vedete che sta questa questa aletta sta vedete questa invece vi cade vedete perché ricordatevi piegatela semplicemente poi io dopo andrò a smontarla piegatela un po' di più come vi ho fatto vedere prima e poi la inserite così lei si incastra qua in mezzo e vi potrà lavorare così come questa vedete questa che sta su avete ragione Michele ma se non inquadri cosa vediamo ecco vedete questa non è possibile ma lo faremo dopo questo quindi una queste si aprono tutte guardate che meraviglia perfetto ecco qua questa è l'immagine che vediamo qui ok cosa ci è rimasto da fare niente abbiamo finito a questo punto abbiamo finito e allora facciamo una prova io voglio fare una prova chiudiamo questo chiudiamo questo vedete piegando le alette queste guardate che meraviglia guardate che meraviglia tac e si chiude subito adesso andiamo a fare un'altra cosa mamma mia questo filmato viene di nuovo lungo ragazzi che vi devo dire ma mandatelo avanti cosa vi devo dire ragazzi è così io voglio fare una prova per vedere questi dove ci cadono se devo fare una modifica ma sicuramente sì per fare questo vi consiglio di svitare queste due viti una poi vi dico il perché non ci vuole niente sono due viti ragazzi che sono e due avete visto qua che ho messo tutto perfetto questo non si muove più allora perché vi dico di togliere questo pezzo perché questo pezzo qua vi aiuterà non essendoci a centrare bene il perno qua dentro andiamo a vedere uno e due le apriamo aspettate che alzo un po il cellulare con il treppiede perché il pezzo è grande ed esco sempre dall'inquadratura me ne accorgo ragazzi cosa devo dirvi devo pensare a cosa devo dire devo inquadrare ripeto quando si tratta solo di montare basta è tutta un'altra storia lo vedete anche voi allora ricordatevi questo perno qui perno chiedo scusa questo questo foro questa asola va messa qua quindi andiamo a centrare prima questa così è una prova è questa non ti dice di farlo ad agostini ma io la faccio lo stesso poi senza schiacciare perché c'è il perno qua andiamo a controllarlo teniamo questo aperto così giriamo questo senza schiacciare ma così non si divide e andiamo a vedere il nostro perno a che punto è io lo vedo lì posso schiacciare un po non troppo allora questo così e lo controllo di qua col cacciavite e lo centro nel foro certo se lo fate da voi da soli senza fare quello che sto facendo io ci mettete un attimo però ragazzi ci siamo capiti voi se smontate il pezzo di plastica grigio è molto più semplice fare questo operazione ve ne accorgerete aspettate vediamo se ce la faccio non vi dico quante volte ci sono già riuscito e adesso trovo tribuno un po ma ce la facciamo lo stesso ecco se non sbaglio vedete qui voi potete lavorare tranquillamente sul perno che come vedete è già entrato dentro in posizione a questo punto possiamo schiacciare uno schiacciamo due perfetto perché io devo vedere qui come si comporta ragazzi devo vedere come si comporta quello che sto vedendo non mi piace per adesso poi vedremo dopo allora non va bene così non va bene così così va bene ecco perché meno male mi era venuto un mezzo colpo ragazzi mi era uscito da qua madonna ragazzi ho detto ma che è qua tutto storto per forza ok poco male ritorniamo a noi io ragazzi vi faccio vedere video lunghi per farvi vedere come fare ragazzi ok se no io direi ok mettete il dito dentro centrate il perno e avete finito io vi faccio vedere tutto ecco perché ci metto più tempo vedete di qua è impossibile vederlo perché c'è la placchetta di plastica adesso se mi spazientisco ed è difficile farmi spazientire a me fermo il video e me lo metto in un minuto in cinque secondi perché sto cercando di non uscire dall'inquadratura e sto pensando troppe cose ragazzi avete capito comunque voi lo vedete attraverso il foro non vi potete sbagliare io adesso lo metto così scusatemi e che devo fare mi è riuscito sempre che ci crediate o no ma funziona sempre così quando lo devi far vedere non riesci ok ragazzi vedete il perno è qui mi raccomando vediamo se riesco a farvelo vedere il perno è questo se voi non smontate questo come fate di qua fate fatica lo vedete il perno ma non riuscite a vedere il foro da sotto di qua è molto più semplice allora andiamo a vedere come si comporta facciamo finta di doverlo già montare ecco perché ho voluto portarmi avanti questo va giù bene qua questo va così questo va qui questo va qui ecco guardate cosa intendevo qui va benissimo guardate perfetto tenetelo perché non è avvitato non è avvitato qui va bene diciamo accertate vivamente che sia stato tutto inserito correttamente non spingete sulle plastiche ragazzi se dovete spingere tirate su piano delicatamente non abbiate fretta tirate uno tirate due tirate tre tirate quattro poi schiacciate ok dopo premete perché questo è metallo e potete farlo non lo fate se ci sono le plastiche perché spaccate tutto poi non dite che non ve l'ho detto e ovviamente quando fate questo lavoro non gravate con le dita qua sopra perché rompete i perni o fatelo sempre sul metallo così comunque stavo guardando che qua è tutto inserito bene mi interessava quello che se io faccio così faccio qua è perfetto vedete e poi finiamo il video qua è perfetto vedete parlo di questo spazio che abbiamo qua e lo stesso che abbiamo qua ed è perfetto mi piace ok qui andiamo giù e mi piace anche ok ma guardate cosa succede con questo beh questo non mi può piacere quindi io poi devo andare a lavorare così devo andare a portare questo in qua e ce la faccio mi invento qualcosa poi se vi succede anche a voi fatemelo sapere ok ragazzi bene a questo punto io direi questo lo monterò dopo io direi che il video termina qui adesso per chi vuole rimanere a guardare il proseguo della seconda parte del video rimane è soltanto da far vedere la rivista farla leggere il fascicolo chiedo scusa a quelli che sono interessati anche ai contenuti della scrittura poi vedete voi diversamente ragazzi ci salutiamo qui con voi vi ringrazio della pazienza ce n'è voluta tanta anche da parte mia ragazzi a meno male che quella lì madre natura me l'ha data grazie ragazzi grazie delle visualizzazioni e mi raccomando se avete piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video porca paretta questo non mi piace per niente non mi piace ciao ragazzi spegnete pure che io metto pausa levo tutte faccio vedere la rivista ciao a tutti al prossimo video ciao da michele eccoci nuovamente insieme ragazzi grazie a quelli che hanno deciso di vedere il filmato fino alla fine speriamo di non essere l'unico speriamo proprio di no e adesso iniziamo a darvi la possibilità di leggere i contenuti di questa meravigliosa ciliegina sulla torta ulteriore ciliegina sulla torta oltre la base premio che è appunto la storia di iron man e dei supereroi della marvel andiamo subito a vedere cos'è contenuta nella prima e seconda pagina prima pagina ovviamente io tengo il cellulare con la mano così vi do la possibilità di poter leggere meglio la prima pagina come sapete è sempre quella dedicata ai numeri utili e ai servizi e adesso sto zitto e vi faccio leggere serenamente e e e e e qua vado veloce contenuti e montaggio del nostro numero 85 e il 3d che ci fa vedere dove vanno collocati i pezzi sulla nostra bellissima armatura e 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 se ce n'è anche solo uno oltre a me a cui è utile quello che sto facendo vedere adesso io sono già stato ripagato almeno uno eh siamo arrivati a pagina 12 e poi ci salutiamo anche con voi e ci diamo appuntamento al prossimo stavo stavo pensando cosa dire ricevimento fascicolo pacco non lo so perché chi mi segue sapete che nella playlist sto facendo più cose non tantissime perché i soldi ragazzi sono quelli che sono e i soldi mi sono sempre più estrani ultimamente chi li vede va bene ragazzi va bene ragazzi nella prossima uscita l'86 costruisci la quindicesima parte del torace ecco qua io direi che con questa bellissima copertina possiamo chiudere qui anche questo ultimo video della giornata se non sbaglio ne ho fatti quattro sono contento ma sono un po' non so stanco forse la parola è il termine sbagliato un po' esaurito ragazzi un abbraccio a tutti un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando regali non me ne fate perché i soldi sono quelli che sono ma se proprio volete e avete piacere potete iscrivervi al canale attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ciao ragazzi al prossimo video un saluto a tutti voi da Michele